Neon Luce, progettazione e produzione di insegne luminose con attrezzature e macchinari tecnologicamente all'avanguardia, capaci di eseguire la lavorazione dalla materia prima fino al prodotto finito. Neon Luce garantisce al cliente il miglior prodotto con il prezzo più competitivo. Neon Luce è anche studio grafico per l'impostazione grafica, la stampa digitale, l'oggettistica personalizzata e gadget pubblicitari. Neon Luce, il valore aggiunto del business. Assupere!